Qui vi presentiamo le 5 migliori graffatrici manuali. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. WoWCraft 7089000, uno graffatrice manuale Tacocraft 7. Questo set include un'arma estremamente utile e facile da usare per le riparazioni e anche la funzione fai-da-te in tutta la casa, insieme a una fornitura di 1000 punti metallici. L'utensile ha un robusto corpo in acciaio e la custodia girevole consente di trasformare rapidamente e comodamente anche i punti. Viene inoltre creato con un sollevatore di punti integrati. Passando al numero 4. WoWC Professional Graffatrice Manuale HT14. Grazie alla sua robusta struttura in acciaio, questa cucitrice è inoltre adatta per svolgere compiti particolarmente impegnativi, come prendersi cura di mobili e prodotti di schermatura. È stato creato per utilizzare graffette di tipo 53, fino a una lunghezza di 14 mm, e anche chiodi di tipo 40 per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Stanley 6 TR250 Graffatrice, TR250. Questo è un modello professionale, sviluppato con un corpo in alluminio leggero. Ha una cura morbida che ne consente un utilizzo a lungo termine senza affaticare la mano. La cura della serratura garantisce la massima sicurezza. Inserire i punti e i pioli è davvero semplice. Il selettore della forza del colpo completa le sue caratteristiche. Almostat è top of our list at number 2. Mannesman M48440 Graffettatrice. L'apparecchio è realizzato con un gadget di sicurezza e protezione e anche una cura ergonomica antiscivolo, per consentire un utilizzo ragionevole senza pericoli. La confezione include 200 graffette quadrate da 8 mm, 200 graffette notonde da 12 mm e 200 graffe da 10 mm. Ma è incluso anche un pulitore per punti metalli. E infine il numero 1 della nostra lista. Graffatrice manuale metallica Pro R 23esime. Progettata per soddisfare un ampio ambito di utilizzo, sia nel settore professionale che nel settore del fai da te, è una cucitrice particolarmente funzionale. È totalmente realizzato in robusto acciaio ed è leggero e anche portatile. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.